Il corso è concentrato sugli aspetti di costruzione della borsa, quindi gli argomenti variano da una conoscenza approfondita dei materiali, alle principali costruzioni delle più importanti merceologie di borse, a un approfondimento tecnico dell'ingegneria della borsa stessa. Il corso di borse in astutoria è un corso tecnico, è un corso breve ed è un corso internazionale. Gli studenti vengono da tutto il mondo, gli insegnanti sono tecnici italiani con una grande esperienza di fabbrica. Gli studenti possono essere o dei tecnici oppure dei designer che hanno studiato design della moda o design dell'accessorio e che vogliono approfondire la parte tecnica della costruzione delle borse. Possono essere anche degli imprenditori che hanno un'azienda oppure che vogliono lanciare un loro business nel settore della pelletteria. Per quanto riguarda la prima parte relativa allo studio dei materiali, si impara a conoscere le differenze fra i vari tipi di pellame, le caratteristiche che hanno i tessuti, sia per il corpo esterno che per la parte fodera. Grande importanza è data allo studio dei rinforzi. Si riferiscono sia le borse rigide, semirigide e morbide. Anche gli accessori vengono sviluppati, il chiusore lampo, le cerniere, i sistemi per la chiusura dei fianchi, quindi soffietti, singoli, semplici composti, fondi a fascia, fianchi a cartella e costruzioni di stelle. L'ultima settimana del corso è dedicata alla realizzazione di prototipi. Si applicano le conoscenze di ingegneria del prodotto acquisite durante il corso e le si applica ai materiali reali di industria. Il corso dura sei settimane, per full time, cioè inizia la mattina alle nove, inizia alle cinque di poveriggio. Le aule sono aperte fino alle sette e otto di sera e c'è la possibilità di restare per fare pratica. La location è il campus di Erzutonia che è vicino al centro di Milano. Grazie per la visione! Grazie!